Scegliamo la bigliana, ci vorresti seguire il tuo bigliana? Allora, Milano, c'è un problema. Io mi chiedo con che coraggio la intona si è presentata con un sound rap quando il music è formato dalla migliore crew italiana nel rap. La mia famiglia è Maccette. Allora, facciamo questa cosa, facciamo questa cosa. Dato per Red Bull è la seconda volta che fa questo sound crash e non ci ha chiamato come Maccette. Questa volta ce la prendiamo con voi, Daytona. E questo è il rap che ci piace. Vai, slide! Attenzione per piacere. Grazie. Chi ha riconosciuto? Grazie. E' scusiva, ragazzi. Chi ha riconosciuto? Chi ha riconosciuto? come è tutti amici come è cazzo come è buon ragazzo come è tutti amici come è cazzo io non esce parli di Dompleit ma i Dompleit devono fare un ragazzo italiano perché siamo in Italia faccio un padre dollar per i pittesi continuiamo con Daytona avete fra dei cruchers, sì o no questo è per voi voi sta No la via, ti verso, ti verso, che cazzo lì E Non poteva voler a barona senza portarlo a King No, 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 aspetta, 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 aspetta E poi ce ne abbiamo una per Schini E dici, ce l'abbiamo anche per Schini? Schini, cosa fate? E' un po' di meno, tu bianco